Fratello, non sai che cos'è Smite? Taccidua! Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro ciccio camera 89 Siamo tornati su Smite Per chi non sa che cos'è Smite E' un MOBA, è un MOBA tipo alla League of Legends Per farvi chiarire, tipo Tota 2 Ma ovviamente tutti sono giochi completamente differenti tra di loro Questo è Smite, è un gioco molto molto cagliardo A mio avviso è molto molto bello E potremmo fare tranquillamente una 3v3 O se no una delle mie modalità preferite che sarebbe l'Arena L'Arena ci ritroveremmo a combattere 5 contro 5 Appunto, in un'Arena con i nostri Dei o Dei preferiti Ci sono tutti i Dei tranne Gesù Cristo e Dio Perché erano troppo overpower e non ce li hanno messi dentro Ci sta Buddha in versione piccolina che ha tipo due culi Poi vedrete per chi lo conosce, ovviamente sto giocando Insomma ci stanno tutti i Dei dell'Antica Grecia Di tutte queste ere qua, anche degli Egizi Il mio preferito è Thanatos, il Dio della Morte Vi volevo ricordare che questo gioco qua è completamente gratuito E lo potete trovare qui sotto in descrizione Ci cliccate, vi registrate e vi scaricate Smite totalmente, gratuitamente E poi potete giocare con me Perché? Chi se lo sta chiedendo? Perché non ho registrato con i miei fan? Perché il primo video lo registro da solo per spiegare un po' le meccaniche del gioco Farmi una partita E poi registrerò con i fan che scaricheranno dal mio link Il gioco voglio Thanatos 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 è figo E poi mi sembrava che mi ero comprato No, voglio Thor Thor perché, sapete perché? Guardate C'ho l'armatura di Iron Man Ah, ho scioppato Pure lei ha scioppato Però è meglio con le tette di fuori Ve lo dico, in questo gioco ci stanno tante tette Ed è un bel gioco Vedi, Knit Poisedon Posedone Anubis No, il Dio della Morte Egizio penso O della Guerra Non mi ricordo Thor Vabbè, per chi non conosce Thor Ragazzi Io ve lo dico Scaricatevelo Link in descrizione Gratis Venite sul TS di Ciccio Camera 89 Lì c'è tanta gente che ci gioca Poi quando ci sarà l'opportunità Registreremo anche insieme Andiamocene direttamente In battaglia Oddio ho fatto muove tutta la webcam esplosa Perché adesso il team avversario C'è uno stronzo Che non locca Che sono lì Ok, ha loccato Subito dopo che avevo detto che non loccava Più o meno loro hanno la nostra stessa squadra Tranne per Bacco Che sarebbe Vi ricordate Hercules Il Dio dell'Uva Non mi ricordo bene Adesso Poi ci sta comunque Thor Knit Loki Che è un assassino Ma lo sapete chi è Loki Non lo so di E Apache Non so chi è Apache O Apuch Non lo so Però è una simpaticissima cimietta Se non vado a dire Le cazzonerie Bella, bella, bella Ed eccoci qua Ragazzi Tra l'altro Per chi non lo sapeva O per chi non ci ha mai giocato O per chi Non ci gioca da tanto tempo Hanno Rifatto Completamente La grafica Di questo gioco Ed è Qualcosa di Fighissimo Io inizierei con subito Un pochino di danno Perché a differenza Dell'altra modalità Qua Abbiamo Il medikit C'è la zona Sicura Guardate che figata Come l'hanno rifatto Benissimo Ce l'abbiamo qua vicino Siamo due squadre Abbiamo 500 punti A squadra I primi che li finisce Perde E non vince E lo so Incredibile come cosa Però C'è sta Adesso questa Io la prendo a calci in faccia Perché mi dà fastidio Che stanno attaccando Con un po' troppo Disinvoltura E guarda se va a finire Che quello che c'è muore So io Uso la mia skin Skill Volevo dire No skin Dai dai ragazzi Ragazzi stiamo partendo male Ve lo dico Non va bene Non va bene Non va bene Poi a te non ti si vede il culo Con questa skin Io dico che non va bene Non va bene davvero Praticamente Come si Abbassa Il livello Cioè i punteggi Del nemico Ovviamente O mandando il super minion Nel portale O uccidendo Questi bastardi E visto che qua Vai Oh Io ho fatto fallo a kill Io ho fatto fallo a kill Io ho fatto fallo a kill Perché l'ho bloccato Quello non lo posso difendere mai Qua c'è un casino Sto senza mana Aia Mi ha bloccato con la ulti Amici Amici Ho la 1 Dietro al culo Che mi vuole morto Non ho il mana Aiutami No Chi Bravo Guarda Nubi Guarda Nubi Com'è venuto A darmi la mano Te voglio bene Nubi Te voglio bene Ok Bella Tutti qua dentro ragazzi Abbiamo fatto Una buona kill Una cosa che secondo me È utile È anche gli stivali Che ci permettono Di andare un pochino più forte E questa Vedete Quella era la ulti Di Anubi Però c'ho anch'io La mia ulti Che è molto buona Molto molto buona Il mio Anubi Ai la sua ulti Ai la sua ulti Fa male Ok Non mi fate incazzare Che tiro la mia ulti La tiro La tiro Basta Ho deciso Perché stanno attaccando Tutti quanti La tiro pure io Non ho preso Un cacchio di nessuno Però Vieni qua Io c'ho la skin Devi per forza morire C'è Venga dietro Ho c'è sbagliato Ho c'è Sta martellata Gliel'ho stilata Penso di avergliela stilata Ma in questi casi In particolare Su smite I punti sono di squadra Non è tipo League of Legends Dai Ok Non è tipo la League of Legends Che per esempio League of Legends Tu hai un tuo Punteggio personale No Invece qua Il livello È più Generico È più Da squadra Quindi non credo Che ci sia Help in pula mia In pula Va bene Guarda 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 Tor che fa l'ulti Dove vai Tor Tor dimmi che ti tiro Bravo L'ho bloccato Ti do le botte Ti do le No Sti sta Spin Span Parca Cazzozza Bravo La morte La distruzione Ti posso salvare Amica mia Corri tu Ah l'ho salvata L'ho salvata No mai nella vita Gli ha tirato un rotto Di quelli tipo La Non lo so a che cosa L'ha squagliata viva Con un rotto Sei scarso Attenzione Non so con chi C'è là Un italiano Abbiamo fatto la Combos Abbiamo fatto la Combos Adesso Vediamo se Riusciamo A fargli ancora male Guarda Sti due Me stanno Aia Poi mi toccherà Farmi pure un pochino Di armatura Ah Strubale Mi ha già scassato un po' Tre quarti De minchia Guarda Sta assassino Maledetto assassino Allora A me sa che questo Questo qua È scarso forte Vai 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 Oh Le botte Non so se Ah Mi sa che Questo giro Mi sa che c'è moro Invece no Invece sì Invece no Quello ha tirato la ulti Gli do una mano Perché la ulti è fortissima Ah Rotto incredibile Di te lo respano Sono morto Aiuto Io provo a farmi la ulti E ammazzarmi Quella stronzata Che sta lì Proprio a te Te voglio Oh Ragazzi GG Qua mo Dico da solo GG Ma veramente E' qua Mamma mia le botte Mamma mia Sarta Sarta Bastardo Sarta Ah è questo Questo è il minone gigante Che non deve passare là dentro Perché se no ci toglie Un sacco di punti E devo dire che l'hanno migliorato Davvero assai Perché prima era una torretta Bruttissima Senti Pensaci dei positoki Io qua C'ho un attimo Da aiutare Gli alleati No eh Aspetta Don una mano A te che magari ci mori Qua c'è un po' di burdel Qua c'è un po' di burdel Oh tu mi hai rotto le palle A fai rotti Hai capito Ah Quanto dolore però Quanto dolore E poi poi Aia Che figata è questo veleno qua Non l'ho mai visto Non l'avevo mai visto Comunque siamo abbastanza vari Però Diciamo che sta vincendo Il team enemy Vai 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 Porca miseria Porca La miseria Prendilo Prendilo Rompilo tutto Ah Arriva il ruttone Il ruttone Oh raga qua Forse ho fatto qualcosa De bello No c'è il ruttone Che me li vuole ammazzare tutti Ruttone non è arrivata l'ora Che tu muoia malissimo No davvero Mo parte tutto Tutto quante cose Aspetta ruttone Io te Andalo guardalo Oh E' buona eh E' stata buona raga E' stata buonissima E' stata buonissima Aiuto però Non mi ha merito mica Di morire Bella ragazzi Ah la ulti Questa fa male Dai che ci penso io a Thor Vi do un sacco di torturate Ah 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 Ho fatto pure la battuta Thor senti Che cosa brutta E qua Sesso Oh botte 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 Mamma mia ragazzi Mamma mia Guardalo guardalo Che c'è cosa Che se vuole fa cosa Dai Vambe E con B Ce ne possiamo ritornare La base se non ci va Di camminare Tanto è vero che Alcune volte si fa prima così Dai Allora ci facciamo Abbiamo questo item Qua Ce n'abbiamo un altro Buono di item Io farei questo Però non ci abbiamo I big money Però ragazzi Ci dovete aspettare Ok Vai 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 Lo faccio fuori L'ho fatto fuori Sono morto Male Non è vero Perché comunque c'è Guarda Arriva quello sullo skateboard Aia Aia Il veleno ti rallenta Guarda fa tutto da solo Si muove tutto da solo È fighissima Quella mossa lì Bellissima Allora se io faccio così Faccio così E faccio così Qualcuno l'avrò bloccato Cazzo No C'è solo il rottone Il rottone c'è Ah giro giro Tondo Giro giro Tondo Ah un secondo E me ne vado Che vivo Sono vivo Sono vivo Sono vivo Non ci credo Ok Senti Però tu devi stare fermo E ti devono killare male Porca miseria Porca miseria Blocco lei Gli tiro in martello Scappo È la combo Quella perfetta Perché quell'ulti ragazzi Fa il danno ad aria Ma porca miseria Che aria Vabbè lo te ne devi andare Capita rottone Quello lo chiamiamo rottone Perché siamo amici Aia Mi ha proprio rottato male Vedi qua Ok Preso eh Stai ancora fermo Stai ancora fermo Thor Vieni qua Thor Che titolo è Thor Torate Però l'avevo detta già prima Non è più tanto giusto Ok Poi ovviamente Questo è il mercato ragazzi Eh Ma penso che Abbiamo un pochino di Conoscenza di questo gioco Ah Guarda Questo si sta facendo Ovviamente tank Magari sto anche Sbagliando A focussarlo Però È quello che rompe Un pochino più le palle Di tutti Senti Tu veramente Vorresti scappare Ma infatti dicevo Oh 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 Senti Così te impari Stronzo Così te impari Se non morite Ci morono amici due Aia Questo Questo lo torterate Tu Tortora Tortora Ma ha bloccato a me Guarda sto Sì Perché tu vorresti Vive Tu Tu Con me Vorresti Ma l'ha inculato Ah no Pensavo che me l'avesse Inculato Quello voleva Vive Regà Non dicesse Cazzate Non dicesse Dai che te proteggo io Non è un problema Mi è nata questo Mi è nata questo Ok dobbiamo fare attenzione Ragazzi perché io sto Ah Ah rotta 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 Sto proprio rotta tanto Eeeh Fa culo Madonna questo Madonna questo Quante combo tutte insieme Questo non ci avrà capito niente Aia Aia Questa la tiro eh No 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 Che tiro Me ne vado a fanculo Ma quanto può durare quella ulti Aia Vivo per miracolo Vivo per miracolo Ah Loghi Ma hai locato I tre quarti Oh Aia Mi focussano Malissimo Uuuuh Il veleno Ragazzi Il veleno Allora Sapete che conviene Conviene Che me faccio ancora male Ma sti Cazzi Gli items Diciamo che sono Molto più facili Rispetto Al League of Legends Mamma mia Regà Ma che fai sto di Ah ah Tor Ma che ha fatto Scemo unito Tor Te Te Tor Te Le botte Te Ragazzi Eh Siamo un buon team eh Siamo un buon team Anche se loro comunque Stanno un pochino in vantaggio E potrebbero darci Dei problems A warrior star Archer Abbiamo fatto fuori uno Si No Laci hanno assolutamente Bisogno di noi Arrivo Fermi un po' Tutti quanti E che cos'è ogni volta Oh Le grandi botte Ok vado Questa mia ulti Forse Eh Sbagliata Ma chi se ne frega Oh Double kill for me No for you For me Ah Qualcuno però C'è un rottone Che mi vuole morto Io continuo 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 Mazzate 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 Come se non c'è fosse Domani Scampaci Oh raga Oh raga Lasciamo perdere Perché questa è stata veramente Una bella azione Ve lo dico È stata veramente Qualcosa di fantastico Dai Bellissimo Poi tutto aggiornato Bello 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 Allora c'è Thor Che potrebbe morire Quando gli è par Oh Un po' di casino Come piace a me Via qua Via qua Aia ma ammazza Io me ne vado Aia Meno male che c'ha le escape Che è buonissimo Come ti aiuto A te Te faccio così Te lo posso bloccare Madonna Oddio Guarda quello come Sta pagamita Parello Ma ti spiace la cifra Ah Sono morto Mi hanno fatto Shutdown Perché era da un po' Che non morire Purtroppo ci siamo fatti prendere Bravissimo Bravissimo Va scappa Scappa Non ce la farai mai Però Mi sa di sì Aspetta che venga bene a mano Ah Torre Torre Io mi faccio torre A meno che non riurta Non ci sono riuscito Che palle Vabbè ma io mi butto in mezzo Ma chi se ne frega Sutelei Non l'ho preso Ai amici 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 Ho fatto una mezza cazzata Non ho fatto una mezza cazzata Diciamo che l'ho fatta Bella grossa Ci ho provato Ci ho provato Oh Una volta si vince Una volta si perde Adesso io vado qua Do una mano ai miei amici Allora tu mai proprio Ma tu mai proprio Guarda mai Vabbè Non vai eh Bravissimo Bravissimo Rotta Rotta da morire L'ho bloccato Però mi dovete stare Dando una mano Per favore Per favore amici Aiuto Sono benso dalla merda Raga non so che è successo Ma è successo qualcosa di buono Io ve lo dico Allora visto che mi stanno A fare un po' troppo male Noi ce ne andiamo Un pochino di difesa E ci facciamo questa consigliata Ripeto Gli items sono molto più facili Rispetto a League of Legends Eh Però C'è questa arena Che è molto carina Da giocare con gli amici A mio avviso Allora ragazzi È aumentata la musica Ciò significa che stiamo Ma Ah stronzo Ah stronzo Ecco L'ho bloccato Regà l'ho bloccato Non credo che ce la faremo mai Invece sì Forse ce la facciamo Mamma mia Ti ulto in testa Però magari Invece De farlo E bam Faccio lui Faccio lui Che L'ho presa L'ho presa L'ho presa Amici Amici L'ho presa Lei 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 Bravo Bravo Non l'hai preso un cacchio Però Oh Vattene a fanculo Non fate più vedere Ragazzi questo è un momento Molto concitato Guarda laggiù No Vieni qua Dai dai Io voglio che Dai Dai me ci metto in mezzo Ah 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 Aia 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 Ok Regà ho provato a difendere uno dei miei Uno è morto Sono riuscito a ammazzarlo Quindi Non è andata male Madonna è un momento Mi sento tutto Regà Mi devo andare subito là dentro Guarda sto stronzo Non fariva i minion Ma bastardo Ma bastardo Ti do un sacco Madonna quante frustate Ti do Via qua Portarci due Aia Vieni qua Ah Me ne so dovuto andare Regà perché Se no avrei rischiato di Madonna Guarda quello Guarda Thor Oddio regà Regà responate Perché stiamo pari Ve lo dico Stiamo pari ragazzi Stiamo pari ragazzi E lo so Dicono di difendere il portale Allora Se distruggiamo quello Se ne vanno a meno 5 A meno 5 Noi ancora non ce l'abbiamo Perfetto Ammazzo Mi sta messo in merda Tu resta là Per l'amor di Dio Me sa che uno dei nostri È morto E me sa che siamo morti Pure noi Me sa eh Me sa proprio tanto Regà Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai È impossibile Ricuperare sta partita È impossibile Impossibile Dai 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 Sto toè Calla Perché se sono andati A fammazza due Mi sembra Cazzarola Però ho fatto 12 4 22 Io ho giocato Stra stra bene Ragazzi Ragazzi Io direi che l'appuntamento Di oggi può finire qua Vi ricordo Che Smite È scaricabile Giocabile Gratuitamente Qui sotto Non è pesante Come gioco Ci possono giocare Un po' tutti Pinca che pezza Se ne volete anche Perché arriverà a minimo Un altro video Con voi Giocherò insieme a voi Quindi scaricate il gioco Per giocare con me Se volete Lasciate tanti like Se non siete iscritti Iscrivetevi Commentate Condividete E ciao